A fare italiane con Anna Tatangelo, anche a te una domanda d'obbligo, una grande emozione questa sera, lo abbiamo chiesto agli altri protagonisti, ma lo voglio chiedere in particolare a te che cosa si prova a cantare in una serata come questa. Parli degli altri protagonisti, quando la vera protagonista alla fine è lei. Io sono felicissima di essere qui, ho un legame in particolare con lui perché con la popolina le prime interviste che ho fatte, le prime interviste l'ho fatte perché ho avuto tantissimi concorsi, quindi mi ha portato per la popolina e poi è un piacere cantare a Medica del 56 che è una delle sue perle assurde. È indubbiamente una canzone emozionante, quindi aspettiamo questa grande emozione. Tra poco. Tra poco in diretta su Affari Italiani. Grazie Anna, prossimi tuoi impegni invece? Adesso sto preparando il disco, è uscito due mesi fa il singolo che è un'unione in mezzo di visualizzazioni, quindi grandi soddisfazioni e ci mettiamo al lavoro. Grazie, buona fortuna, in bocca al lupo.